Sofferta ma meritata, forse così ancora più bella perché arriva soltanto ad una manciata di secondi dal termine. La vittoria 4-3 della Salinis contro la Cenerentola Roma-Torrino-Fuzzal è di puro cuore e carattere. Premia la capacità della formazione di Margherita di Savoia di sapersi esaltare nei momenti di difficoltà. Ritrovata prontamente la via del successo dopo l'onorevole capo esterno contro la capolista Corigliano, quinta affermazione nel computo complessivo in nove incontri giocati nel campionato di Serie A2. Il palaspor di Andria, la cassa della Salinis in questa stagione, è indisponibile ed allora il match tra la compagine del presidente Salvatore Forte e il quintetto della Capitale si gioca sul neutro del paladolmen di Biceglie. C'è equilibrio nei primi minuti, poi sulla conclusione di Nardacchione Gattarelli insacca nella porta sbagliata il più clamoroso degli autogol. Vantaggio Salinis che nonostante le assenze dello squalificato Colangelo, degli infortunati Perri e Pigneiro e dell'indisponibile dell'Isa, conserva il palino del gioco e sfiora il Biceglie con Caetano. Palo esterno, il raddoppio arriva a meno 4 dall'intervallo e lo realizza con una strepitosa giocata individuale Dario Sebastiano Nardacchione, sinistro di rara bellezza e precisione il suo. Poi Giannino, uno dei migliori dei suoi, prima del riposo salva il doppio vantaggio sulla stoccata di Dacosta. Ripresa che si apre ancora nel segno della Salinis. Il Torrino, nobile decaduta del futsal italiano, spreca una buona chance in attacco sulla ripartenza e i padroni di casa colpiscono con Alberto Pedone. 3-0, tutto semplice per il quintetto di Domenico Lodispoto. Solo per il momento però il Roma-Torrino infatti non molla di un centimetro e con Capitan Sanna riapre la contesa al quinto minuto. Poi al settimo, con Dacosta, trova addirittura la rete del meno uno. Clamoroso al paladolmen, la Salinis sembra un po' distratta ma prova comunque a reagire in qualche maniera. Frontino non riesce a far centro da due passi. Il Torrino resta così in partita e crede nella clamorosa remuntata sino al termine. L'aggancio degli ospiti arriva a meno 3 dal definitivo suono della sirena. Lo realizza su schema d'angolo lo stesso Sanna. 3-3, incredibile al paladolmen. Sesto fallo di squadra per il Rosanero. Il Torrino ha la chance addirittura di mettere la freccia su tiro libero ma Giannino è davvero strepitoso sempre su Sanna. Ultimo minuto, anzi ultimi secondi. La Salinis non smette di crederci un attimo e proprio sui titoli di coda trova l'acuto che vale vittoria e quarto posto solitario in classifica nel girone B. L'obiettivo dei Rosanero resta sempre la salvezza ma un pensierino alla finaletti di Coppa. È lecito farlo a questo punto soprattutto dopo una vittoria del genere. È bello vincere, poi che si vinca in scioltezza, cosa improbabile e molto difficile in questo campionato. Vincere così è chiaro che ti fa stare con l'ansia fino alla fine, però i ragazzi ci hanno creduto, sapevamo alla vigilia di questa partita che non sarebbe stata facile anche per le squalifiche e gli infortuni che avevamo. Però ci tengo a ringraziare i ragazzi che oggi hanno veramente dato tutto e si è visto.